Abbiamo qui con noi Fabio Lezzerini che è il country manager di Emirates, dopo vediamo nel secondo giro come e se voi vi date da fare e con quali obiettivi per portare qua. Ma intanto su questa visione generale di un sistema dove nel lungo raggio i flussi, l'importanza e il rilievo delle compagnie del golfo eccetera, in questo come stanno le cose e l'Italia come sta messa e come è indebolita nel lungo raggio, che obiettivo è per voi? Grazie Giannino e grazie a Luca per l'invito anche quest'anno a essere qui, mi diverto sempre, intanto poi se posso rubare due minuti voglio anche commentare alcune delle interviste, a parte che ho visto un signore col casco dell'Inter e mi ha fatto piacere, sicuramente non dovrei dirlo a causa delle nostre sponsorizzazioni ma vedere il nero azzurro è comunque sempre piacevole. Poi però quando parliamo del County Brand Index ci torno, perché poi c'erano un po' di cose che volevo riprendere che anche lei ha detto prima sulla cultura, la storia, su cui noi ci facciamo tanto grandi, a quanto pare non interessa un granché. Parlando di trasporto aereo è evidente che i flussi si stanno spostando, l'ha detto Luca, profonda diminuzione negli ultimi sette anni, Stati Uniti e Europa e grande crescita dell'altra parte del mondo. Noi abbiamo la fortuna, purtroppo non solo noi, c'è anche la concorrenza, però stiamo in un'area del mondo dove a circa 6-8 ore di distanza c'è più o meno il 60% della popolazione mondiale. E della popolazione mondiale non soltanto che numericamente sta crescendo, ma è la popolazione mondiale che sta crescendo anche in termini di capacità di spesa e di affluenza. Lì è un'area del mondo dove però il sistema funziona in maniera tutta coordinata, cioè una forte compagnia era da sola non basta, un forte paese da solo non basta, diciamo che è una questione di coerenza. Abbiamo parlato negli ultimi sette anni dell'evoluzione che faceva notare Luca, io sono appena tornato dal nostro head office e ero con Paolo, il nostro responsabile vendite. Lui ha iniziato a lavorare in Emirates 13 anni fa, 13 anni fa il grattacielo più alto di Dubai era il World Trade Center, che adesso si trova lì, un povera stella, vicino a una specie di tangenziale. Adesso i grattacieli non si contano più, nei prossimi tre anni verranno costruiti altri 50 alberghi a 5 stelle, verrà costruito una città che è diventata ormai 2 milioni di popolazione, 10 milioni di turisti. Quindi è un mondo che sta nascendo, così come è Dubai, per amore del cielo ci sono tante altre zone del mondo che lo stanno facendo, il lungoraggio diventa un asset fondamentale. E così come fondamentale, però giusto anche per commentare su quello che lei diceva dell'ordine, che poi sulla stampa è uscito come le tre compagnie del golfo, però ci farebbe piacere ricordare che il più grosso ordine l'abbiamo fatto noi, perché 100 miliardi di quelli sono nostri, sono 157,77 e 53,80. Lo dico non perché sia fanatico dei modelli e dei modellini degli aerei, però per dire come le aziende devono continuare ad investire. Lei l'ha citato, questi aerei sono aerei estremamente efficienti, portano tanta gente, consumano poco, sono un pelino più eco-friendly, adesso dire che un aereo eco-friendly sarei tacciato un pochettino, di essere esagerato, però sono un po' più eco-friendly degli altri, soprattutto hanno una grandissima efficienza di gestione. Noi l'abbiamo visto, in Italia abbiamo recentemente cambiato proprio su Venezia la configurazione dei voli, da una destinazione che perdeva costantemente, da una settimana all'altra con questo aereo è diventata una destinazione che guadagna e guadagna anche tanto. Questo per dire continuare a investire, è chiaro che la logica strategica per noi forse è più semplice, siamo appunto, ripeto, in un'area dove gran parte della popolazione vive, gran parte della popolazione che sta crescendo, siamo nati lungo raggio per definizione, perché il medio raggio e il breve raggio lì non si può tanto fare, però se uno guarda il mondo del compagniere in generale, cosa vede? Vede che le compagnie che vanno bene sono quelle a lungo raggio, oppure sono le low cost, oppure sono pure, ci metterei, ormai sono quasi da considerare come compagnere, i treni ad alta velocità. In Italia qual è il vettore principale domestico? Boh, forse un pochettino di più il treno, su certe destinazioni. È chiaro, detto questo, si vede come è difficile per compagnie tradizionali, al di là di meriti o demeriti della politica, del manageriale, eccetera, eccetera, quasi per costituzione è difficile riuscire a trovare uno spazio schiacciati tra low cost e alta velocità localmente e nel medio raggio, perché per viaggiare in Europa non si può fare tanto la differenza con i servizi, due ore di volo sono due ore di volo, stai seduto leggermente più stretto, leggermente più largo, non fa una grande differenza, ti servono un tramezzino più o meno rancido, non fa la differenza, l'importante è arrivare e partire in tempo, sul lungo raggio queste differenze invece si vedono. E tra l'altro, poi mi zettisco perché poi tendo ad allargarmi, l'altra cosa fondamentale è il tipo di configurazione. Noi vediamo, per esempio, abbiamo un business, un traffico di business e di prima classe che è tipicamente addirittura più alto come crescita rispetto a quello dell'economy, perché soprattutto nel lungo raggio ti puoi permettere di fare queste differenziazioni. Ripeto, nel breve e nel medio queste differenziazioni valgono poco. Da questo forse anche, oltre al calo ovviamente, e questo sta nelle cose, sta nell'evoluzione dell'economia, sta nell'evoluzione della popolazione, sta nell'evoluzione sociale e demografica, che questo è il vecchio continente, questo è il vecchio continente, la vecchia aristocratica che ancora veste con gli abiti eleganti, che però hanno 30 anni e hanno un po' di rammendi, questo sta nella storia. Alcuni paesi potrebbero, però poi ne parliamo nella seconda parte, potrebbero sfruttare un po' meglio la propria storia, altri, soprattutto copiando anche quello che fanno i nuovi. Certe volte si pensa che l'ultimo arrivato copia i vecchi, ma ogni tanto se anche i vecchi copiassero quello che fanno, cito anche in questo caso casa nostra a Dubai, per dire come c'è questo sviluppo consistente e coerente che va a parlare ai vari tipi di turismo. Il turismo noi siamo abitudini, parlavamo prima, l'abitudine da italiani a pensare che i nostri concorrenti sono la Francia e la Spagna, ma lo era 30 anni fa, quando c'era questa abitudine vecchia e ritrita di dire quest'anno in vacanza ho fatto il Messico. Dico spesso, il Messico l'ha fatto il buon dio o il caso, a seconda di chi non crede, non l'ha certo fatto un turista che è stato due settimane, si è andato a visitare un pezzettino grosso così di Messico. Il turismo non si muove più con questa logica, vado in Italia. Il turismo è sempre di più legato alle passioni, a chi piace il vino, a chi piace la natura, a chi piace il turismo, a chi piace lo sport, eccetera, eccetera. E allora se vuoi colpire il segmento appassionati di vino, i tuoi concorrenti, sì, casualmente in questo caso sono anche la Francia e la Spagna, ma sono anche il Sudafrica, il Cile e l'Anna Pavale in California, per cui competi su un piano diverso. E il paese deve riuscire a mettere insieme queste città, queste nuove culture, forse anche con la tenerezza di mondi che hanno un sacco di soldi e si stanno affacciando al mondo e stanno imparando, stanno investendo su questo. Lea Shaw, lei l'ha citato, non c'era fino a pochi anni fa, è diventato il punto in cui si fanno gli ordini. I grossi concetti, le grosse mostre d'arte, questo circuito di altissimo livello dell'arte che era tipicamente Miami, Basilea, adesso tocca anche Dubai, oltre a toccare ovviamente a New York. I grossi concerti, adesso a parte Bruce Springsteen e Aspetto con grande ansia, che prima o poi ci vara, così lo vado a vedere anche lì, e aggiungo un'altra città dove l'ho visto, stanno crescendo, stanno andandoci e noi siamo sempre meno toccati, per cui qualcosa da domandarsi c'è, detto questo poi rischio di allargarmi troppo. È ovvio che avendo dietro billion su billion di rendita petrolifera tutto diventa più facile. Che nel nostro caso, scusi se mi interrompo, non è assolutamente così, perché il petrolio è da Abu Dhabi, in Dubai non ce n'è più. Avendo però dietro governi che hanno qualche rapidità in più nelle procedure, spazio a disposizione, il tempo in cui sono andati i mega hub aeroportuali lì è un tempo incompatibile con il consumo dei suoli, non dico con le leggi amministrative italiane, con il consumo dei suoli della vecchia Europa, purtroppo è esattamente così. Ora, prima di volgerci a Expo, abbiamo una video intervista, una video intervista di Marco Furlanetto, per Furla, perché una delle grandi cose poi per attirare del brand Italia è appunto il Made in Italy, quindi con Furla, parta l'intervista a Furlanetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I segreti del successo dell'Italia all'estero li distinguerei in due gruppi, i segreti tangibili e i segreti intangibili. I segreti tangibili sono la ricchezza del nostro territorio, quindi parliamo da un punto di vista paesaggistico, di beni artistici, culturali, di monumenti, che tutto il mondo ci invidia. Invece i segreti intangibili sono, senza ombra di dubbio, la creatività, l'artigianalità e la capacità sempre di reinventarsi. I punti di forza che hanno reso Furla così internazionale sono stati sicuramente un design pulito del prodotto, capace di piacere a 99 donne su 100, una pulizia delle linee e l'utilizzo di materiali prettamente italiani. Il brand d'Italia nel mondo ha sicuramente un percepito molto alto, altrimenti non si giustificherebbero le innumerevoli contraffazioni di tutti i nostri prodotti. Made in Italy quindi è un brand, va difeso e tutelato, bisogna trovare appunto delle modalità per proteggere questa creatività italiana. L'Italia oggi si trova al ventesimo posto nella classifica dei paesi da visitare. Secondo me questo è assolutamente inaccettabile, avendo un territorio, un patrimonio artistico e culturale che dovrebbe immediatamente catapultarci nelle prime posizioni. Expo 2015 sarà pertanto una vetrina, un'occasione speciale per valorizzare i punti di forza del nostro paese e come azionista di un'azienda di moda e imprenditore di questo nuovo progetto sono queste le aspettative che ripongono. Eccoci qua, grazie a Furlanetto, ma Furlanetto ha concluso esattamente passando la palla idealmente per il prossimo interlocutore perché l'aspettativa che il mondo delle imprese ha nei confronti di Expo è molto alta, non solo di coloro che in realtà già hanno un marchio ben piazzato, nel mercato come quello del lusso, della moda e così via. Su Expo ci sono fortissime aspettative anche di moltissime imprese non solo di Milano, Lombardia, ma del nord del paese rispetto all'andamento dei consumi interni. Cioè questo è un paese che ha un bilancio purtroppo negativo di questi cinque anni. Quando dico purtroppo significa che la sfiducia che si legge negli italiani dobbiamo essere comprensibili perché è una sfiducia fin troppo capace di elaborarla in maniera razionale. Perché questo è un paese che in una crisi così non l'ha mai vista in 152 anni. Cioè non è mai esistito in 152 anni perdere più di 9 punti di PIL, più dell'11% del reddito pro capite, 27 punti di investimento, siamo ancora a 25 punti di produzione industriale. Quindi è un bilancio di una guerra di media intensità. Detto questo però ci sono fortissime attese. Allora Di Piero Galli che è il direttore dell'Expo che si occupa della gestione dell'evento quindi fa parte di questa squadretta esangue dal punto di vista di come numericamente siamo abituati a considerare che in Italia si gestiscono le cose. Loro sono pochi, si danno un fare dannato. Io devo dire che sono molto contento che essendo pochi siano più efficienti per forza. E poi ai miei occhi ha un pregio aggiuntivo perché quando cominciò a fare il manager cominciò a fare il manager per l'ottimizzazione economica e finanziaria di un'impresa particolare, un segmento in Italia che è quasi disperato. Cioè il segmento editoriale, parlo da giornalista. Quindi diciamo che uno è abbastanza abituato a vincere sfidi impossibili.